E' bella a tutti ragazzi, qui Prisma e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo, dopo un po' di giorni di ricerca, come costruire l'arma speciale della mappa Nine, ovvero la morte di Orione, secondo me una delle armi speciali più fighe esteticamente viste fino ad ora, e per quanto riguarda la potenza direi invece che, beh, si potrebbe migliorare. Vediamo quindi subito di cosa parlo. Partiamo già dalla nostra comparsa in partita. Appena entreremo vi consiglio di iniziare subito con questo primo step. Praticamente dovremo avvicinarci ad uno degli standardi arrotolati in giro per la stanza, e accoltellando la corda vicino questo si srotolerà, una parola difficilissima da dire, e vi verranno attivate le sfide. Bene, queste saranno infinite, nel senso che una volta completata una, continueranno poi per tutta la durata della partita, ma noi basterà semplicemente completare tre sfide. Per esempio nel mio caso la prima era di uccidere 13 zombie con il coltello, ed è comunque anche per questo che è meglio farla nei primi round. E niente, una volta che la completerete dovrete andare al centro della prima stanza, e avvicinandovi al vostro fuoco corrispondente troverete una ricompensa. Di solito la prima è una vita extra. Ci interagiamo, e dopo averlo tenuta passeremo alla prossima sfida. Continuiamo appunto fino alla terza, dove ci verrà regalata la pistola potenziata, una buona arma per questi round, e poco dopo nel piedistallo centrale spawnerà un calderone. Bene, lo prendiamo, e ora dovremo recuperare tutte e quattro le teste in giro per gli altari degli dei, per sbloccare successivamente il paka punch. Ho fatto proprio un video a riguardo, quindi se non sapete ancora come fare trovate tutti i link in descrizione. Ok, quindi passiamo al prossimo step. Tenendoci davanti al paka punch dovremo girarci ed andare nell'ingresso del tempio da Anurra. Cerchiamo poi questa finestra, e guardando in fondo dovremo sparare al contenitore infuocato al di sotto della lampada. Dopo averlo fatto cadrà per terra, e le fiamme incominceranno ad alzarsi e andranno a disperdersi al piano superiore. Quindi noi adesso dovremo salire tutti i possibili piani fino ad arrivare all'altare di Danu, e apriamo il cancello a sinistra per un costo di 1250 punti. Così facendo il ponte sarà accessibile, e se guarderemo a destra troveremo il fuoco liberato prima. Bene, avrà composto una freccia, e se notate attentamente indicherà un tempio specifico. Nel mio caso era quello di Ra, però non sarà sempre uguale, infatti varierà da partita a partita, e potrebbe indicare anche quello di Zeus, o Dino, o di Danu. Per capire quello che indica dovrete controllare la linea retta, e non so, vedere in linea d'aria che cosa sta indicando. Una volta individuato il tempio, dovremo andarci e cercare la testa di una statua. In ogni tempio c'è un singolo spawn fisso. Vediamo esattamente quali sono. Nel caso, come me, che la freccia indicherà, dovrete raggiungere il tempio, e prendere le scalinate per scendere di due piani. Per intenderci, dovrete fermarvi dove c'è il sarcofago. Ok, la testa della statua si troverà dietro alla fiaccola nell'angolo sinistro della stanza, lì in basso. Per prenderla ci interagiamo, e così facendo verrà giunta al nostro inventario. Poi, se invece la freccia indicava il tempio di Danu, dovrete andare all'ultimo piano corrispondente, e troverete il pezzo subito scese le scale in mezzo alla pozza d'acqua illuminata. Sarà un po' scura, però comunque la testa sarà questa. Ipotizzando che la freccia indichi il tempio di Odino, dovremo anche qui andare al rispettivo piano terra, e una volta raggiunto il grosso focolare, dovremo fare attenzione e controllare in basso, noteremo in ogni caso la forma della testa. Se invece il vostro tempio sarà l'ultimo, cioè quello di Zeus, sarà necessario raggiungere il suo ingresso, dove c'è quella specie di vasca da bagno reale. La testa si potrebbe trovare in uno di quei quattro angoli vicino alle tende, di preciso non mi ricordo quale sia, ma dovrebbe essere comunque il primo a destra. Perfetto, ora che avremo sicuramente la testa della statua ci serviranno altri due pezzi per proseguire con la costruzione della nostra arma speciale. Saranno sempre nello stesso punto e dovremo recarci al tempio, dove c'è il pack a punch. Tenendocelo davanti come punto di riferimento, andiamo verso sinistra, vabbè nel mio caso c'era il fuoco. Comunque, una volta spento dovremo interagire con la catena appesa alla torcia del muro di sinistra, per sicurezza sentirete anche un suono di conferma. Ok, e questo è uno. L'altro invece lo troviamo stavolta andando alla destra del pack a punch. E anche questo sarà sotto le scalinate, e dovremo andare fino in fondo alla parete dove c'è l'altra torcia. E noteremo che sotto ci sarà un ingranaggio. Bene, lo dovremo prendere. Tutti questi pezzi raccolti andranno assemblati allo spawn, esattamente nella stradina che ci porta dallo spawn all'altare di Ra. Ecco, qui ci sarà un teschio indicante una trappola, normalmente non la farebbe utilizzare, ma ora avvicinandoci ci dirà di premere quadrato per assemblare la trappola acida. Lo facciamo e poco dopo la troveremo sopra di noi. Però ora dovremo interagire anche con la grata subito sotto, perché così facendo posizioneremo la testa della statua. All'interno ci sarà un pezzo della Wunder Weapon, e per estrarlo dovremo attivare la trappola per un costo di 1500 punti. Quindi ci allontaniamo e quando avrà finito vedremo un nuovo oggetto. Lo prendiamo e controllando nel nostro inventario lo troveremo lì. Bene, per il prossimo step dovremo solamente uccidere un bel po' di zombie, perché appunto questo consisterà nell'avere un consenso positivo da parte del pubblico. In poche parole, non so se avete mai notato il pollice di fianco ai vostri punti. Ecco, se giocherete bene il pollice andrà verso l'alto e diventerà verde, altrimenti andrà verso il basso e sarà rosso, come un po' il sistema di valutazione per i gladiatori nell'antica Roma. Però come fare per avere il pollice verso l'alto? Come detto prima potremo uccidere o tanti zombie facendo però passare tanti round, oppure potremo velocizzare il tutto completando le sfide che avevamo sbloccato ad inizio partita. E niente, continuiamo fino a che non sarà così verde che uscirà anche un bagliore, perché così facendo poco dopo comparirà la scritta favore del pubblico, oggetto disponibile. Questo significherà che sarà spawnato un bonus in giro per l'arena. Lo step però non sarà solo questo, perché noi dovremo fare in modo di tenere il favore del pubblico per due round di fila. Tranquilli, se vi scompare la scritta non vuol dire che avrete fallito, l'importante è che rimanga verde acceso. E anche se solo subirete danno avrete fallito. Infatti dopo due round passati correttamente ci sarà un altro oggetto disponibile, cioè il classico bonus, però il pubblico ora vi lancerà anche un piccolo vaso che noi dovremo cercare per tutta l'arena, anche se solitamente si trova vicino al bonus spawnato. Eccolo, sarà questo qui, lo prendiamo e andiamo subito verso l'ingresso dell'altare di Danu. Scendiamo nella grotta dove c'era il possibile spawn della testa e dovremo avvicinarci a quest'albero, capirete che è quello giusto perché ci sarà un buco nel tronco. Noi dovremo accoltellarlo e così poco dopo si inserirà un estrattore di linfa. Poi abbassiamo la visuale e premendo quadrato aggiungeremo anche il vaso appena raccolto. Perfetto, non dovrete aspettare come stavo facendo io che si riempia perché non succederà assolutamente mai. Vi basterà solo far passare un round e appunto noteremo che sarà pieno e così potremo prenderlo. Abbiamo quasi finito. Come ultimo step dovremo andare dove c'è la cassa e interagendo con l'angolo sinistro, cioè con i teschi, ci dirà di inserire il veleno. Noi lo facciamo e ora la prima cassa che faremo ci darà la morte di Orione. Anche i vostri compagni poi facendo qualche cassa la potranno trovare. Avremo però ora la versione base, per potenziarla ci basterà andare nel pack a punch e per un classico costo di 5000 punti ne avremo una versione più forte. E finalmente dopo un po' di passaggi avremo la nostra arma speciale. Quindi direi che abbiamo visto tutto, se il video vi è stato utile lascia un bel like, scrivi nei commenti qualunque problema e iscriviti per rimanere sempre aggiornato. Da Prism per adesso è tutto, bella!